e ma che c'è a tutti i cavalli buoni i butti partiti in vantaggio ciclone da clodia davanti a cuore di tenebra la calero musia libera e razza d'arcadia dopo 200 metri di corsa passa la calero davanti a musia libera ciclone da clodia cuore di tenebra e razza d'arcadia dopo 500 metri di corsa torna in vantaggio ciclone da clodia davanti a la calero musia libera cuore di tenebra e razza d'arcadia posizioni invariate con ciclone da clodia in vantaggio nei confronti di la calero musia libera cuore di tenebra e razza d'arcadia all'inizio della curva prosegue in vantaggio ciclone da clodia davanti a la calero musia libera cuore di tenebra e razza d'arcadia poco prima dell'ingresso addirittura in vantaggio ciclone da clodia davanti a la calero musia libera e cuore di tenebra i cavalli entrano in dirittura con ciclone da clodia in vantaggio lungo la corda davanti a la calero tra i due musia libera cuore di tenebra e razza d'arcadia all'interno è ciclone da clodia all'esterno musia libera e la calero a centro pista cuore di tenebra e razza d'arcadia passa musia libera davanti a la calero razza d'arcadia ciclone da clodia e cuore di tenebra è facile musia libera davanti a razza d'arcadia e la calero è migliore musia libera grazie a tutti 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 grazie a tutti